La prevenzione è un fattore fondamentale per la salute dei cittadini e il settore assicurativo ha deciso da anni di investire in prevenzione e in protezione perché l'assicurazione deve essere accanto al proprio assicurato, al proprio cliente, per evitare che si possano conclamare le malattie, per dare le indicazioni giuste, per dare le corrette indicazioni sull'alimentazione, sul benessere, su un corretto stile di guida. Queste sono le indicazioni che noi diamo e che riteniamo essere fondamentali per evitare che poi le malattie si presentino. Da anni facciamo un tour itinerante in varie città d'Italia per dare la possibilità a tutti di accedere a check-up gratuiti. L'ultimo che abbiamo concluso qualche settimana fa ha riguardato la salute della donna, abbiamo avuto un riscontro molto importante e soprattutto abbiamo percepito che le donne talvolta sottovalutano la necessità di fare prevenzione. Per questo anche qui a Napoli abbiamo ritenuto fondamentale ripetere la nostra esperienza proprio per dare la possibilità alle donne di fare delle analisi preventive che possano evitare poi il conclamarsi di malattie e di patologie che sono particolarmente diffuse nell'universo femminile. Grazie a tutti.